E ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Edspo e oggi vi farò vedere questa nuova applicazione che ci darà la possibilità di guadagnare camminando in particolare l'applicazione si chiama Cashwork e oggi vi farò vedere esattamente come funziona e quanto più o meno si riesce a guadagnare innanzitutto partiamo col dire che l'applicazione è disponibile sia per il Play Store sia per iOS quindi assolutamente abbiamo la compatibilità al massimo per il vostro dispositivo Android oppure se avete un iPhone potete tranquillamente utilizzarla allora partiamo subito col dire che io già la sto utilizzando all'incirca da un paio di mesi o meglio un mese per l'esaltezza e vi posso dire che ho già affatto diversi prelievi eccoci all'interno del mio dispositivo e vi faccio vedere subito andando nella schermata ricompense e andando successivamente i miei premi possiamo vedere che ho riscattato due buoni Amazon da 5 euro l'uno in questo caso uno il 20 giugno un altro il 2 luglio vi posso dire tranquillamente che i buoni sono stati riscattati correttamente e non ho avuto nessun tipo di problema anzi vi dirò di più sono anche istantanei siccome io sono una persona che cammina volto e se magari anche voi fate tanti passi ogni giorno sicuramente questa applicazione fa il caso vostro questo perché riuscite ad arrivare in modo velocissimo al payout massimo ma massimo in 15 giorni perché oltretutto ogni giorno abbiamo 3 scatole dove si aprono delle pubblicità e praticamente riusciamo quasi subito ad arrivare al prelievo se fate sempre 10.000 passi al giorno riuscite tranquillamente anche in 11-12 giorni con l'aiuto delle daily box ad arrivare già al cash out ma come funziona praticamente ogni 100 passi sono una moneta quindi arrivando a 10.000 passi sono 100 monete massimo giornaliere che potete raccogliere più le box che trovate qui sotto che sono randomiche riuscite a guadagnare all'incirca 130 monete giornaliere il che significa che in 10 giorni siete già a 1.300 e per arrivare poi successivamente a 1.500 vi basta davvero un altro giorno o un paio di giorni ed ecco qui che riscattate il vostro buono in 12-13 giorni insomma ragazzi io ve la consiglio in quanto le coins si accumulano quindi a fine giornata vi basta entrare una sola volta all'interno dell'app cliccate accumulate tutte le coins e poi continuate così via dicendo inoltre l'applicazione poi ha anche diverse opportunità come la lotteria dove ci dà la possibilità ancora una volta ecco qui di guadagnare altre coin in questo caso ce lo fa fare 3 volte al giorno ma successivamente possiamo farlo poi il giorno dopo insomma vedete che qui in questo caso dà sempre un coin però se magari si è fortunati si riesce a guadagnare anche qualcosa di più insomma ragazzi l'applicazione è assolutamente pagante io vi invito a utilizzare il mio codice referral perché in questo modo non solo aiutate me ma teoricamente dovresti anche voi iniziare con 100 monete in più da già dall'inizio insomma quindi questo è il mio codice vi invito davvero a scaricarla a provarla e onestamente io la consiglio vivamente perché vi ripeto semplicemente camminando tenendo installato questa app all'interno del proprio dispositivo si riesce a guadagnare molto velocemente questi buoni amazon insomma ragazzi se volete restare aggiornati su queste applicazioni e su altri miei nuovi video vi invito davvero a iscrivervi al mio canale e restare aggiornati grazie a tutti ragazzi al prossimo video ciao grazie a tutti